Nuovo collegamento Bolzano-Lecce. Sono treni diretti che adesso arrivano e saranno potenziati proprio per collegare meglio la nostra provincia, collegare Bolzano e quindi rendere la nostra provincia raggiungibile anche senza macchina. Questo per noi è fondamentale anche in questo periodo dell'anno dove tanti si muovono, tanti partono da Bolzano, vanno al mare e possono partire senza macchina. Per noi è un tema fondamentale quello di incrementare l'offerta e qui grazie alla collaborazione con Trenitalia e la Regione Puglia adesso siamo riusciti a implementare questa offerta. Credo che sia un collegamento importantissimo vedere il collegamento di tutta l'Italia, da nord a sud e soprattutto mettere in relazione gli abitanti del nord con quelli del sud e condividere le bellezze che abbiamo e condividere un percorso che faccia sentire sempre meno le distanze e faccia sentire tutti sempre più parte di un unico paese che è l'Italia.